Salvatore Il primo intervento fatto da Cherubino Gambardella qui nel 2004 Quando mi ho presentato il progetto sicuramente è un progetto innovativo all'interno di un contesto quello della botellina di Montesacchio una cittadina storica, una cittadina che ha delle origini che vengono da lontano successivamente poi il colore è stata quella scelta più ardimentosa se così la vogliamo dire perché inserite in quel contesto quale poteva essere poi dal vino l'impressione e lì abbiamo detto che tentiamo quest'altra stata visto che stiamo facendo sperimentazione ed è stata una sperimentazione di grande successo è un rapporto che devo dire si sviluppa con grande qualità e con un committente che in particolar modo ha molto coraggio è un committente che ha molto coraggio e che sfida ogni giorno la soglia della qualità in un contesto come quello meridionale che non è semplice La domanda che voglio farti, l'impressione che ti ha fatto vedere la prima volta questo palazzo? L'impressione è un po' particolare perché comunque è un palazzo diverso che si differenzia nel contesto circostante che il paese piace piace comunque è una cosa diversa